Eccoci, buongiorno. Oggi parleremo di onde armoniche, quelle onde che sono sempre disegnate da un bambino con un profilo sinusoidale. Quindi costruiamo un modello matematico per descrivere questo tipo di onde, perché senza la matematica è spesso difficile prevedere che cosa succederà. Il comportamento di onde armonica è quindi un modello matematico che a seguito di una perturbazione ci dice come un moto armonico, cioè un moto che oscilla intorno ad una posizione di equilibrio e percorre sempre la stessa traiettoria. La funzione che utilizziamo è questa funzione qua, dove abbiamo la y, quindi l'altezza y di un punto che oscilla in su e in giù, da una ampiezza massima, quindi la punta, diciamo così, del nostro profilo d'onda, moltiplicata per il coseno di 2π fratto t, che una volta chiamavamo omega, la pulsazione dell'onda per il tempo opportuno più una eventuale fase iniziale che può esserci oppure no, cioè un angolo di partenza che non sia proprio lo zero. Questa funzione ovviamente al posto di scrivere 2π fratto t grande ci possiamo mettere la omega e otteniamo la y ad un determinato istante t, cioè tra 3 secondi saremo alti un metro, saremo alti mezzo metro o rispondiamo a domande di questo tipo. Vediamo che cos'è la fase iniziale, se faccio oscillare una corda il mio polso può partire dalla parte massima di estensione del braccio, ma può anche partire da zero. Quindi da dove parte il nostro profilo d'onda, che se è un coseno, come ben sappiamo, un coseno parte sempre da 1 o se moltiplichiamo per l'ampiezza parte da A al massimo, fa un'oscillazione di questo tipo e ritorna in questo punto. Se invece per esempio partiamo da zero, quindi con il nostro braccio partiamo dal basso, quindi qua c'è la nostra manina che fa scuotere la corda, dobbiamo aspettare un tempo, un angolo di oscillazione prima di poter fare il nostro famoso profilo del coseno. Questa fase, questa distanza, questo periodo di attesa prima di partire col coseno lo chiamiamo fase iniziale. Potremmo anche partire con il braccio da un punto intermedio che non è zero, ma non è neanche il massimo possibile. Questa è un angolo di partenza e ci consente di attendere quest'angolo prima di poter allungere la massima ampiezza. La fase iniziale, quindi una costante, una costante che tiene conto delle condizioni iniziali dell'oscillazione, cioè a che punto sono arrivato col braccio per percuotere la mia corda. Se nelle condizioni iniziali il tempo uguale a zero, queste sono le condizioni iniziali, la fase iniziale è diversa da zero o diversa da 2k pi greco o da, diciamo così, diversa da zero, diversa da 2 pi greco, diversa da 4 pi greco, diversa da 6 pi greco, allora due moti ondosi potrebbero essere spostati in fisica, si dice sfasati. Questo sfasamento è l'angolo di differenza tra la partenza di 1 dal punto massimo e la partenza dell'onda viola dal punto massimo. L'onda viola aspetta un po' prima di arrivare al punto massimo. C'è anche un esercizietto in cui abbiamo un'ampiezza iniziale di 6,8 centimetri all'inizio, istante t uguale a zero, in un punto p. Lo spostamento verso l'alto della corda, quindi la quota massima raggiunta della corda è di 3,4 centimetri e si vuole sapere la fase iniziale. Ovviamente al tempo zero togliamo questo termine e otteniamo il coseno di fi zero, ovvero fi zero con la funzione arco coseno. C'è anche un'equazione spaziale, questa era l'equazione cosiddetta temporale, dove c'è il tempo nell'equazione. Un'equazione spaziale avremo, anziché il tempo a cui si verifica una certa y, avremo la posizione x a cui si verifica una certa y, cioè la distanza dalla sorgente. Questo è possibile ricordando che la velocità e tempo e spazio sono legati da questa formula, quindi x fratto v sarebbe il tempo generico. È sufficiente sostituirlo al posto di questa relazione per ottenere la funzione in termini di spazio, anziché quella in termini di tempo. Ripetiamo, 2pi greco fratto t grande per t era la relazione che avevamo in questa equazione temporale. Vogliamo sostituirla con una formulazione di tipo spaziale, quindi questa non la mettiamo più, al posto del periodo grande scriveremo questa grandezza qua sotto e al posto del tempo generico metteremo questa grandezza. Semplificando le velocità otteniamo quello che vogliamo ottenere, ovvero l'equazione spaziale dell'onda. Un'onda armonica, quindi, è un'onda che ha un profilo di un moto armonico, cioè un coseno, e dopo aver l'equazione temporale scritta in questo modo e aver scritto l'equazione spaziale in questo modo, sempre con una fase iniziale possibile, possiamo ottenere un'unica funzione che tiene conto di entrambe le cose. Mi piace molto utilizzare questa funzione qua, che direi è proprio una funzione che tiene insieme sia la posizione x sia il tempo. Useremo questa molto molto spesso. C'è qui un esercizietto in cui un'onda armonica di ampiezza di 2,7 mm si propaga su una corda di chitarra. Potete vedere lo specchietto dei dati fatto qua. Ricordiamo la velocità di una corda che è data dalla tensione divisa la densità lineare. Ce la possiamo ricavare e scriverla qua. Quando poi vogliamo trovare la y, abbiamo trovato la velocità poco prima e alla fine ricaviamo questo risultato. Fate questo esercizio con comodo, naturalmente. Io fado un po' più veloce, ma voi vi fermate il video e vi guardate questo esercizio. Buona giornata!